Un francese di 72 anni ha dovuto essere soccorso ieri pomeriggio a Santa Brigida sulle alture di Dolcedo nell'immediato entroterra imperiese. L'uomo era caduto in un dirupo mentre stava facendo una passeggiata insieme ad un amico che ha dato subito l'allarme. Sono intervenuti 118 croce rosse e carabinieri del comando stazione di Dolcedo ma viste le condizioni impervie della zona per recuperare il ferito è stato poi necessario anche l'intervento dell'elicottero dei Vigè del Fuoco. L'anziano turista francese è stato caricato a bordo del mezzo aereo e trasferito all'ospedale Santa Corona di Pietraligure con una frattura, un braccio, contusioni ed escoriazioni.